Qual è il rapporto tra Rosa e Carmine? L'amore vince? Sicuramente si combatte per un certo tipo di amore, per un certo tipo di libertà, poi se vincerà o meno vedremo. Rosa, per te? Mi trovo con le parole di Massimiliano, lo scopriremo. Non si può dire nulla, si può dire qualcosa? Diciamo che è stato un piacere rendere la loro vita particolarmente difficile. E invece come è cresciuta anche la regia in queste stagioni? Qual è stata l'evoluzione oltre ai personaggi? Ovviamente conoscendoli sempre più mi è stato facile, o comunque è stato entusiasmante, coinvolgere gli attori, i loro due in special modo, sempre più anche nella messa in scena. A volte molte scene che mi sono piaciute in questa stagione, e che spero piaceranno anche a voi, nascono dalla collaborazione strettissima con questi due fenomeni al mio fianco. Loro conoscono questi personaggi meglio di chiunque altro, per certi versi meglio di me, e quindi ogni tanto mi ritrovo a parlare a loro come se fossero veramente Carmine e Rosa, e direi, ma Rosa, ma tu che faresti? E lei ha sempre la parola giusta che io non saprei mai trovare. Voi quanto adesso assomigliate ai vostri personaggi, vi sentite simili a loro, li capite? Io mi sento simile a Rosa solo nella sua paura e nella sua fragilità, per il resto niente. Carmine lo capisco sì, assolutamente, siamo cresciuti insieme, ed è stato bellissimo scoprire e riscoprire in cosa magari possiamo essere vicini e in cosa magari possiamo essere un po' più distanti, in termini anche di punti di vista proprio sulla vita. Però questa è una stagione che vi cambierà, giusto? È una crescita di tutti i personaggi, una crescita proprio della serie, che si evolve e poi arriviamo alla quarta, dopo la quarta abbiamo già la quinta, la sesta, c'è già un progetto più ampio? Siamo qui per parlare della quarta, intanto, che già è stata un'opera incredibile, lunghissima e estremamente complessa ed entusiasmante allo stesso tempo. Questa è sicuramente la stagione della maturità, ancora più delle altre, è la stagione in cui i personaggi, più o meno tutti i personaggi, si confrontano con il mare fuori, non solo attraverso le sbarre, ma come una possibilità. È il momento in cui alcuni di loro vedranno la possibilità di ricostruire la loro vita dopo aver pagato per gli errori che hanno fatto, in modi diversi, e ognuno avrà ovviamente delle difficoltà al riguardo e ovviamente le difficoltà loro sono sempre le più succose. Nella nota di regia leggevo che questa è una stagione anche dedicata alla musica, alla colonna sonora, in particolar modo. Mai come in questa stagione mi sono divertito sfruttando le musiche del maestro Stefano Lentini e numerose collaborazioni che verranno rivelate prossimamente nell'intrecciare una colonna sonora secondo me magnifica. Io credo che la colonna sonora di questa stagione sarà la più bella di tutte. Ovviamente ci sarà spazio per i temi che conosciamo, ma le nuove musiche che si innestano in questo tessuto musicale sono le cose più belle che ho sentito mai in una serie, sono incredibili.